Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gioco questo qua si chiama Mario Kart 8 Deluxe ed è una gara di corse vedete io ho già fatto tutti i livelli di 50 ok e magari anche il 100 ok allora ho sbloccato tutte le cose perchè è da tempo che ci gioco ma è anche un po' si è da tempo che non ci gioco ho detto e facciamo la nostra prima corsa allora voi ricordatevi sempre di scrivere nei commenti e lasciare il like e scrivetevi perchè se mi scrivete nei commenti voi mi potete dire che cosa volete che faccia e io lo faccio ok dovete soltanto scrivere i commenti e lasciare il like cominciamo con la prima allora io guarderò dei tuoi giochi chi avrà più like e commenti farò più video di quel gioco invece chi ne avrà di meno farò sempre i video però non non troppi ok quindi ricordatevi lasciate i like perchè è tipo non ho mai fatto questo video di questo genere ok e voglio provare ora me ne sto un po' dritto così almeno sentite la musichetta ok come vedete sono lontano da tutti lontano da tutti sono l'isolato quindi che è meglio impossibile che mi raggiungeranno e scrivete anche nei commenti se sono forte o no ok faccio la scorgia tuia la prima partita la prima partita l'ho vinta vediamo tutte le altre perché farò voglio finire il video più veloce possibile no ho fatto il motore che mi raggiungeranno gli altri avete visto che mi raggiungeranno gli altri che mi raggiungeranno gli altri ma io do i miei super scatti se ci avete degli amici potete anche condividere il video così almeno mi vedono di più perché è più che mi date più miglioro tipo lo fondo e robe varie ok è quello che credo almeno no no porca mia mi sto incastrando perché sto facendo queste cose non voglio arrivare non voglio arrivare in un tutto posto però userò le scorciatoie e come vedete ho tutti dietro le spalle aspettate o non l'ho vista suolta suolta Grazie a tutti. E la vince. Il migliore di tutti i tempi. Proprio lui. Non so se si è lì. Pensavo mi scoppia, mi scoppia il motore invece. E la... Guardate che mi potete... C'è anche un profilo TikTok. Se mi volete potete anche iscrivervi. E lasciare un mi piace perché non so come si fanno i video. Quindi mi fareste un favore. Sapete? No. No, le mancate, non ci credo. Mi massacreranno sicuro il 10.000%. No. Allora, il primo giro è andato molto bene, come avete visto. Ora ci sono gli occhi laser, ma voi non fanno i compagni. No, no, non ci credo. Volevo, no. Volevo, velovo, velovo. No. Sembra che non vi colpisce lo odore, invece vi colpisce come. Allora, da come vedete... Sì, ok. È buonissimo, vedi? No, perché l'ho fatta? Sapete che ogni tipo di livello andate, cioè da 50 a 100, gli avversari diventano sempre più forti. Ve l'ho soltanto detto che se non lo sapevate, però se non lo sapevate non dice niente. Non lo sapevate non lo sapevate, ma non lo sapevate, ma non lo sapevate. lancia il buccio e vince allora credo che finirò a 13 minuti non lo so però dite se vi piace il video ok? l'ultima corsa se qua la vinco vinco tutto vinco pure il torneo sta scoppiando soltanto il motore però come vedete sono molto più volosi degli avversari oh mancato a voi piacciono le pistole che ho fatto? ditemelo no mi hanno già superato non ci credo sì 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 sono primo sono primo dai dai forse ce la facciamo grazie a tutti Aspettate, aspettate, aspettate Dai, dai Sì, la vince, la vince, la vince Vedete? Tre stelle assicurate Vediamo il mio trofeo E allora ragazzi, il video finisce qua E se mi lasciate mi piace, i commenti Farò altri video di queste, ok? Ciao